buona giornata amici da massimo foghetti vi do un buongiorno perché oggi sarà un buongiorno e allora noi lo iniziamo a meno dal punto di vista atmosferico e noi lo iniziamo come al solito con la rassegna stampa a partire dall'almanaco del giorno e vediamo subito chi si festeggia oggi oggi è la festa di san desiderio di langre martire francese fu vescovo visse nel quarto secolo e fu ucciso dai vandali che avevano invaso il suo paese la francia le previsioni del tempo dicevo che è un bel tempo quello che si preannuncia nella giornata di oggi una giornata ampiamente soleggiata sulle marche fatta eccezione però per isolati addensamenti pomeridiani sui rilievi sulla costa sulla fascia appenninica clima gradevole da 17 a 24 gradi quindi siamo veramente in piena primavera sulle coste i eventi spireranno da nord ovest all'interno da nord est il mare non è mosso quindi è calmo abbiamo quindi la bella stagione che dopo il disastro dei giorni scorsi è arrivata anche nel nostro territorio ma del disastro questa mattina parleremo in maniera molto diffusa perché ci sono molte notizie sui giornali oggi cominciamo dal resto del carlino piove anche a scuola staffetta tra le classi il carlino come il corriere driatico evidenzia una notizia che a cui è stata data eco la alla da parte della segretaria di fratelli d'italia loretta manocchi piove nella scuola gentile l'acqua trasuda ci sono infiltrazioni che penetra dal soffitto gocciola sulle aule e ovviamente ci sono anche dei distacchi distacchi di intonaco perché la situazione non è sicura e i bambini hanno dovuto essere trasferiti in altre aule la situazione preoccupa i genitori i quali più volte la questione non è solo di quest'anno anzi si è aggravata per i recenti temporali hanno avvertito il sindaco hanno avvertito anche gli assessori competenti ma al momento nulla è stato fatto di qui la pressione esercitata da loretta manocchi ha detto una situazione insostenibile inaccettabile che impone al sindaco e agli assessori di intervenire in modo risolutivo senza minimizzare e trascurare quanto denunciato perché poi se capita qualcosa ovviamente ci sono tutti i ripensamenti e tutti i problemi che deriveranno questa è l'apertura del resto del callino questa mattina vediamo le altre pagine e vediamo che un altro articolo in apertura sulla seconda pagina ci annuncia un nuovo sit in dopo quello che è stato realizzato dagli ambientalisti in viale cairoli sabato scorso per contrastare l'abbattimento di molti platani che dovranno essere sacrificati per la realizzazione del sottopasso ferroviario di viale cairoli ebbene oggi un nuovo sit in si svolgerà sulla rotatoria di via moriconi quella rotatoria ritenuta molto pericolosa per la quale l'udc con stefano pollegioni ha fatto una battaglia da lungo tempo e da lungo tempo che pollegioni denuncia questa situazione è ovviamente condivisa da tutti i residenti che poi sono quelli che veramente incorrono nei pericoli perché c'è scarsa visibilità non ci sono passaggi protetti e il traffico corre veloce su quella rotatoria si rischia grosso l'udc suona la carica ai residenti questa mattina ci sarà un sit in a rosciano qui cucurano viene detto in maniera errata dove anche di recente si sono verificati incidenti pollegioni dice mancano attraversamenti è un percorso ciclopedonale in sicurezza il comune si deve impegnare e quindi ancora una manifestazione di protesta invece alla pagina l'articolo sottostante evidenzia una buona notizia sono arrivati è arrivato il pontone sono arrivati gli scogli davanti ai bagni carlo finalmente questo buco questo intervallo a mare aperto verrà verrà ricoperto scogli e a bagni carlo le prime 6.000 tonnellate doveva arrivare la settimana scorsa il motopontone però dopo è successo alla burrasca ovviamente il mare grosso non ha consentito alla natante di partire da pola dove ha caricato tutti i massi e giungere a fano ebbè è arrivato finalmente ed ora iniziano le operazioni per la posa in opera degli scogli e si chiuderà quell'intervallo che ha così causato tanti danni nel corso della cattiva stagione erodendo metri metri cubi di spiaggia e realizzando un dislivello che sarà insomma laborioso recuperare comunque i concessionari di spiaggia di questo tratto sono messi subito all'opera e cercheranno ovviamente di realizzare una buona stagione un articolo interessante dal punto di vista sanitario è quello che evidenzia una iniziativa del rotary club è una iniziativa che ormai rotary club fa ricorrentemente è quello della della verifica del controllo dei nei sulla pelle delle persone controllo dei nei i medici si fanno in otto ovvero sono otto i medici che dal che sabato 27 maggio dalle 9 13 alle 15 19 domenica 28 dalle 9 alle 13 saranno presenti ancora una volta a palazzo san michele a disposizione del pubblico occorre ovviamente prenotarsi per controllare i nei un'operazione importante di carattere preventivo che può così evitare dei grossi problemi perché poi i nei quando degenerano creano dei tumori e allora è difficile poi riuscire a così a sanare la situazione nel 2019 furono precocemente diagnosticati quattro casi di melanoma a persone totalmente ignari che quindi hanno potuto risolvere il problema si parla del 2019 perché poi con il covid la iniziativa era stata sospesa ed ora si riprende e ieri da parte della fondazione carifano è stata stato presentata una nuova iniziativa che riguarda in modo particolare i giovani c'è stato il rinnovo di questo impegno da parte del presidente della fondazione giorgio gragnola che ha iniziato il suo nuovo mandato proprio con un'iniziativa rivolta ai giovani un'iniziativa che parla il linguaggio dei giovani quello delle digitale e quello delle storytelling reporter e youtuber in fondazione saranno cecilia sala maurizio merluzzo e federico buffa i protagonisti di generazione futuro generazione futura futuro giunta alla seconda edizione si svolgerà dal 16 al 18 giugno prossimo e saranno ospiti a fano sarà incontreranno i giovani tre personaggi molto noti e tra le giovani generazioni si tratta di cecilia sala che è un reporter di guerra che con il suo podcast stories ha inaugurato un nuovo modo di raccontare la guerra in ucraina il giorno successivo il sabato 17 sarà la volta di maurizio merluzzo un doppiatore di youtuber un doppiatore scusate è un youtuber è un che opera su youtube diciamola così papale papale noto soprattutto per doppiare ed illustrare i videogiochi e quindi un addetto alla cultura pop anche questo molto noto tra i giovani mi concluderà il terzo incontro con il terzo incontro la serie federico buffa è un grande del giornalista sportivo considerato un narratore straordinario e anche le storytelling applicate allo sport e costituiscono una fonte di attrazione perché questi personaggi sono dei grandi affabulatori e quando parlano uno ci si incanta a stargli a sentire far passa il tempo ma non conta nulla perché la suggestione è veramente grande e qui abbiamo la foto dei tre personaggi che saranno presenti a fano giriamo ancora la pagina e siamo a monteporzio dove l'amministrazione comunale ha scongiurato anzi diciamo così ha ripianato il disastro finanziario il deficit di bilancio che era in atto da diverso tempo monteporzio scongiura il dissesto finanziario torna positivo il bala il bilancio abbiamo un utile di 426 mila euro in anticipo sui tempi previsti il sindaco di monteporzio mostra la sua soddisfazione e vediamo qui il volto sorridente di giovanni breccia il sindaco appunto del comune merito anche del recupero dell'evasione ha dichiarato il primo cittadino pari a 50 mila euro solo nel 2022 quindi c'era molto da risanare e comunque con questa operazione è stato eliminato il rischio di dissesto finanziario a dare la notizia al sindaco che nell'estate di quattro anni fa aveva stimato un passivo di un milione e 700 mila euro che aveva costretto il comune a chiedere un finanziamento da parte al ministero ora la situazione si è risolta continua la battaglia a san lorenzo in campo contro quello che viene definito l'eco mostro che sorge davanti a piazza verdi un edificio che occlude la visuale del contorno è una battaglia questa condotta da elsigliatenti antonio barbadoro bruno montesi che a marzo hanno indetto una petizione sottoscritta da 144 cittadini che non demordono e non vogliono saperne nemmeno delle assicurazioni che il sindaco stesso ha opposto alle loro obiezioni a urbino a urbino c'è un tecnico si tratta di mirco francioni dell'ateneo di urbino che evidenzia come la nostra regione manca di un meccanismo di un impianto veramente importante per le previsioni meteo si tratta di un radar previsioni meteo imprecise senza il radar il ricercatore esperto del rischio idrogeologico e ricercatore dell'ateneo di urbino torna su un tema molto delicato manca nelle marche il radar terrestre uno strumento che è decisivo per prevedere le turbazioni atmosferiche come quelle che sono accadute nei giorni scorsi ci permetterebbe questo strumento ha detto di visionare e monitorare in tempo semireale l'arrivo e l'entità di eventi estremi che spesso sempre più spesso colpiscono il nostro territorio ancora per quanto riguarda l'entroterra vediamo un incidente che poteva determinare effetti molto gravi in realtà è stato scongiurato almeno in parte negli effetti più determinanti dall'autista con un intervento coraggioso che cosa è accaduto è accaduto che un camion ha preso fuoco all'interno della galleria ma l'autista invece di scendere precipitosamente per salvare la pelle ha continuato a premere sull'acceleratore riuscito a portare il camion fuori della galleria ad accostarlo sulla destra a sganciare il rimorchio su cui c'era un carico di plastica pensate quale elemento infiammabile e quindi limitare i danni il pesante mezzo a metano trasportava plastica è riuscito a portarlo all'esterno e a spegnere le fiamme si tratta di un autotrasportatore romeno droga per posta ventenne non parla il jeep decide di tenerlo in cella trovati in casa ad urbino 10 kg di ascis e un netto di cocaina vediamo anche delle notizie sulla pagina di pesaro dove vediamo i volontari i giovani volontari non mancano mai giovani volontari quando si tratta di portare aiuto alle popolazioni colpite dall'alluvione i primi che giunsero numerosi per fare questo servizio furono quelli che un tempo accorsero a Firenze sommersa dall'acqua del fango erano tantissimi giovani che allora collaborarono per salvare le opere d'arte fiorentine i quadri i libri tutto quello che Firenze ha di tesori e molti furono salvati e questi angeli sporchi di fango oggi si sono ripetuti per quanto riguarda la romagna e molti sono partiti anche dal nostro territorio inizia la conta dei danni 10 milioni di euro solo per i privati e questo nella nostra provincia ricci contatta la meloni la premier ha garantito il suo impegno nel riconoscere lo stato di emergenza anche nel nostro territorio con solo le 140 segnalazioni di privati abbiamo raggiunto un importo di circa 10 milioni di euro di danni ha detto ricci che nel che ha intervenuto nel consiglio comunale che si è riunito ieri in tutta la provincia si calcola un ammontare enorme centinaia di milioni di euro tra pubblici e privati da soli i territori non possono farcela ha detto il sindaco mentre qua vediamo gli angeli gli angeli del territorio gli angeli del fango che sono accorsi in romagna ad aiutare le popolazioni sommerse dal fango e pensate tra questi c'era anche un disabile simone baldini in mezzo al fango in carrozzina la foto è diventata simbolo della grande mobilitazione dei volontari in romagna ed ora un fatto inspiegabile un fatto inspiegabile che fa venire venire in mente tante ipotesi che cosa può avere causato una grande voragine che si è aperta senza alcun segno di scavo durante la notte in un campo ebbene extraterrestri oppure movimenti tellurici sconosciuti ebbene non si sa voragine nella notte in un campo è incredibile nessuno l'ha scavata un agricoltore che è proprietario del campo non riesce a capacitarsi che cosa è successo ebbene la buca è stata transennata perché si trova a tigua alla monte labattese nei pressi appunto della frazione pesarese è un mistero questo gregorio guerra che è un imprenditore agricolo di lungo corso guarda così meravigliato quella grande buca la vediamo qui recintata si vede qui questa macchia scura è piuttosto grande che si è creata improvvisamente nel suo campo poi qua abbiamo la monte labattese quindi non è molto lontana dalla strada non ci sono segni a terra di movimentazione ha detto ma soprattutto non c'è il mucchio con la terra di risulta ebbene allora dov'è la terra scavata non c'è probabilmente è precipitata sotto si ipotizza un movimento sotterraneo fosse qualche falda acquifera che ha causato questo dissesto comunque la situazione è in atto e bisogna capire da che cosa è stata provocata loculi esposti alle intemperie finalmente il comune farà i lavori al cimitero di novilara dopo le segnalazioni che anche il carlino ha collaborato ad evidenziare e la sopralluogo tecnico con l'assessore pozzi una zona pericolante da risanare in settimana sono previsti gli interventi riparatori e poi diamo un'occhiata invece al programma delle grandi manifestazioni di interesse turistico che la città di pesaro ha previsto per quest'anno un'estate già oggi capitale verdone caposela tornatore sono i personaggi che arriveranno nella città di rossini presentata la stagione degli eventi con grandi nomi e manifestazioni di grido il sindaco surreali le polemiche sulla poca comunicazione abbiamo visto nei giornali di ieri come gli operatori lamentavano che ci fosse stata una insufficiente promozione della città di pesaro il sindaco invece controbatte e dice ovviamente non è vero con noi la città è uscita dall'ombra e vediamo ora le date più importanti che segneranno l'estate pesarese dal 7 al 24 giugno si verificherà la mostra del nuovo cinema apertura dedicata a flash dance uno dei film icona della generazione degli anni della seconda metà diciamo così del secolo scorso ospiti saranno Giuseppe Tornatore e Carlo Verdone per i 40 anni di Borotalco dal 19 al 2 luglio Caterraduno ospite Mirko Casadei e Modena City Rambler 13-16 luglio Ulissa Feste concerto di Vinicio Caposella omaggio a Franco Battiato con Simone Cristicchi il 4 luglio l'inaugurazione della ruota panoramica la vediamo qua la ruota panoramica questa volta è molto più alta arriverà ad un'altezza di 35 metri il 18 luglio e il 10 agosto abbiamo Mira al Teatro d'Estate teatro e musica al Mira al Fiore con Nino Frassica il 15 agosto il giorno di Ferragosto concerto di Ferragosto Queen Mania Tribute Band in piazza della Libertà e abbiamo veramente una band che suonerà i pezzi più belli dei Queen e poi dal 7 al 9 luglio c'è Pop Sofia Amati Mostri il 18 luglio e il 10 agosto una mostra su Lucio Dalla in pescheria quindi grandi eventi vediamo anche un'ultima notizia ponte sul tavolo lavori lumaca sale la protesta a Gabice in estate rischiamo il caos ci sarà anche qui un flash mob degli operatori del turismo albergatori e titolari di stabilimenti balneari per coprire 5 minuti solo 5 minuti di distanza ci vuole veramente una eternità il cantiere va troppo piano secondo appunto questi operatori chiudiamo ora il resto del carlino e diamo un'occhiata anche al Corriere Adriatico vediamo la pagina di Fano e vediamo che l'apertura è dedicata a quanto è accaduto sul metauro in occasione del maltempo cede lo sbarramento sul metauro e si ferma la centrale Enel alla liscia la briglia devia l'acqua sul canale Albani e garantisce ad Aset una riserva idrica per l'uso potabile ebbene è stata la corrente impetuosa a causare questo effetto ha ceduto una sezione della briglia a Cerbara un'opera idraulica funzionale a tattare l'acqua sul fiume Metauro e ad alimentare il cosso del canale Albani al momento l'incidente non comporta alcun tipo di conseguenza per il servizio dell'acqua potabile in quanto l'Aset ha garantito l'approvvigionamento dall'impianto di San Francesco di Saltara dall'impianto di potabilizzazione di San Francesco di Saltara che si trova nel comune di Colli al Metauro però ci saranno tempi piuttosto lunghi per riparare quanto la corrente ha rovinato ci sono effetti per quanto riguarda il canale Albani per il cui è stata chiusa l'alimentazione e quindi anche l'acqua che si riversa sulla cascata della liscia è stato interrotto e poi il Corriere Adriatico ci evidenzia i disagi sul traffico che sono verificati sulla parte nord della statale adriatica in uscita verso Pesaro code per chilometri per lavori di bitumatura che hanno veramente ostacolato il traffico soprattutto in Viale Primo Maggio erano interventi importanti da eseguirsi e quindi c'è stato il traffico alternato movimentato dai movieri che ha causato lunghe code poi vediamo qua l'articolo che riguarda l'iniziativa della fondazione le storytelling per i giovani, tre interpreti dell'attualità e poi la fondopagina, le infiltrazioni d'acqua alla scuola gentile per quanto riguarda una serie di iniziative assunte dalla compagnia dei carabinieri di Fano guidata dal comandante Maximiliano Papale ebbene un successo perché ci sono stati diversi incontri con gli studenti delle scuole del territorio sono stati visitati dai carabinieri gli istituti Marco Polo di Lucrezia Michelini Tocci di Cantiano, Binotti di San Lorenzo in Campo Gio Pomodoro di Mondavio e Fa di Bruno di Marotta in totale 800 studenti che hanno incontrato i carabinieri con un colloquio molto molto seguito perché i carabinieri sono stati a disposizione di tutti i ragazzi per rispondere alle loro domande e si è parlato di argomenti molto interessanti argomenti di attualità come bullismo, cyberbullismo, sicurezza stradale rischi della rete, della rete dei social ed effetti dell'assunzione di sostanze stupefacenti oltre all'abuso di alcol e all'uso appunto dei veicoli della mobilità in modo particolare dei ciclomotori e delle biciclette usate dai ragazzi Terre roveresche, no al nuovo invaso, si puliscono quelli esistenti è una frase questa estrapolate da una comunicazione del sindaco Sebastianelli che chiede l'autorizzazione a ripristinare il lago di Barchi e poi conoscere Pergola per raccontarla ai turisti è un'iniziativa assunta dalla Proloco con la collaborazione del Comune della Confcommercio per istruire appunto coloro che vogliono conoscere Pergola e i suoi monumenti in maniera particolare prima di lasciarvi voglio segnalarvi una notizia di Senigallia eccola qua, il ripascimento con la sabbia della riva straordinari per la pulizia della spiaggia vedete come i lavori in questa fotografia sono in pieno svolgimento si eliminano tutti i legni che si sono stati riversati dal mare sulla spiaggia e si rifà la spiaggia di Velluto e questa era l'ultima notizia Assimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle 7 grazie per l'ascolto, a risentirci Grazie 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 Grazie